Musica Capodanno blindato in piazza Sant'Agostino ad Arezzo, 30 steward, controlli per non fare entrare bottiglie di vetro e stop ai botti nei luoghi affollati e nel centro storico. La notte di San Silvestro sarà dunque all'insegna della sicurezza senza però dimenticare il divertimento. E' infatti tutto pronto per la grande festa dell'ultimo dell'anno in piazza Sant'Agostino. E' la piazza che sicuramente ospiterà meglio il pubblico, è quella che si presta un pochino meglio per fare feste di questo tipo.